Musica Successo per la prima edizione del Festival Nutriment realizzato grazie alla collaborazione tra l'Università di Camerino e la Biglia SRL che si è tenuto negli scorsi 14 e 15 settembre presso la sede Unicam di San Benedetto del Tronto. Il connubio tra scienza e cibo è stato analizzato attraverso incontri, conferenze, laboratori, attività interattive, exhibit e molto altro realizzate anche dai docenti Unicam, Martina Capriotti che è andata alla ricerca di microplastiche nell'acqua e nel cibo Filippo Maggi che ha illustrato le proprietà della mela rosa dei Sibillini Cinzia Minnozzi che dal recupero dei fondi di caffè ha mostrato il loro riutilizzo come fonte di sostanze bioattive come fertilizzante in campo agronomico e Paolo Cocci che ha evidenziato le eventuali opportunità e i problemi delle farine da insetti presenti al taglio del nastro e al convegno inaugurale i professori Mauro Angeletti e Gianni Sagrantini direttori scientifici del festival.